Gianluca Lalli Vorrei mettermi a vendere, sai cosa? La speranza, speranza a buon mercato, per un soldo ne darei, ad un solo cliente, quanto basta per sei. E' la storia di Alice Cascherina, che cadeva di sere e di mattina, un bel giorno mentre era in dormiveglia, finì dentro a una sveglia, finì dentro a una sveglia. Era andata a curiosare, tra le molle e gli ingranacci, dentro ogni oggetto strano, lei faceva i suoi viaggi. Poi cercando una conchiglia scivolta... Ascolto quel che dicono gli uccelli, le nuvole che passano in uscelli, capisco anche i bimbi quando dicono cose, che a un orecchio maturo sembrano misteriose. I grandi assurdo, ma lo sai anche tu. Portano le orecchie, però non sentono più. I grandi assurdo, però lo sai anche tu. Sole viaggia in cielo, col suo carro di fuoco, la nuvola gli disse, ne avrai ancora per poco, perché non potrai avere i raggi all'infinito, vedrai che poi al tramonto sarà tutto finito. Avevano pelle e capelli, di colore diverso, ma venivano tutti da Gea, e cioè dallo stesso universo. Per questo erano sette, ma erano anche uno solo, e quando son cresciuti, son diventati un uomo. Il timo, la salvia e la bella valeriana, se sei troppo stressato dormi una settimana, per una settimana. In mezzo ai verdi pini, ai ruscelli d'argento, alzatemi una tenda, ed io sarò contento. Il nostro canta favole Gianluca Lalli, e se una viola, per esempio, fosse al Polo Nord? È proprio quello che accade in questa favola di Gianni Rodari, incredibilmente. Una viola che nasce e cresce al Polo Nord. E che resiste. Buona favola a tutti. Se voi mi ascolterete un po', una storia vi dirò, che un bel giorno al Polo Nord una violetta vi spuntò. Una violetta vi spuntò. Oh 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 Nel mondo che vorrai Non ci son filistei Solo uomini gentili Governati dai bambini Nel mondo che vorrai Bambini